Ciao a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento del sabato con la settimana del sindaco, la nostra rassegna stampa che ci racconta le mirabolanti avventure settimanali in cui è stato coinvolto il nostro primo cittadino. Cerchiamo quindi di fare il nostro consueto sunto. Lunedì 8 marzo naturalmente la settimana si è aperta all'insegna della festa della donna con il progetto La Maremma al fianco delle donne. Ne avevamo parlato nella nostra puntata del punto con Olga Ciaramella, spero che vi ricordiate. Come dicevo il progetto compie il suo primo atto per la lotta alla violenza e alla disparità di genere. La rete provinciale ha voluto creare un filmato per condividere un messaggio di speranza e di supporto verso le vittime della violenza e la disparità di genere. La motivazione non è propriamente la festa della donna ma una riflessione da fare su questo giorno e su queste problematiche. La volontà è quella di onorare la giornata internazionale dei diritti della donna tramite una videotestimonianza con tutti i partecipanti al progetto La Maremma al fianco delle donne. È un'idea progettuale provinciale nata con l'obiettivo di promuovere la stesura di un protocollo di intesa finalizzato alla prevenzione e alla promozione di strategie per contrastare la violenza di genere, la discriminazione, il bullismo, la violazione dei diritti umani e del femminicidio. Poi nel corso della settimana si è svolto da remoto la seduta del Consiglio Comunale dove sono stati approvati due importantissimi strumenti vitali per la pubblica amministrazione locale. Parlo naturalmente del bilancio di previsione e del nuovo piano per la protezione civile comunale. Da una parte con il bilancio di previsione 2021-2023 l'amministrazione ha scelto la prudenza sul fronte delle entrate a causa dell'intrevedibilità dell'evoluzione della pandemia senza però intaccare gli investimenti. Questa è la cosa importante. Quindi la spesa per i servizi più importanti per la comunità e senza aumentare le tariffe. Come nel 2020 è stato mantenuto il taglio sull'addizionale IRPEF e già a dicembre è stato approvato il rinvio delle tasse comunali 2021, tranne l'IMU, alla fine dell'estate. Sul fronte della spesa una grande attenzione agli investimenti, dicevo, e ai servizi più rilevanti per la collettività. Nonostante la minore disponibilità di risorse sono stati previsti livelli di spesa più alti per i servizi educativi per i quali distanziamento scolastico, come lo sappiamo, ha imposto degli accorgimenti e adempimenti che hanno comportato maggiori costi da sostenere. Per i servizi sociali, per lo sport, per la cultura e per il turismo le voci di spesa restano consolidate con le stesse compartecipazioni a carico dell'utenza fino dal 2017, quindi non cambia nulla. L'amministrazione ha anche scelto di non aumentare le tariffe, anzi, come nel caso del suolo pubblico, per edicole e enti locali sono state ridotte del 15% rispetto al 2016. Dobbiamo notare ancora come il nostro comune si trovi per il terzo anno consecutivo a fare investimenti per le scuole e per le strade senza che lo Stato consenta di sbloccare gli avanzi vincolati, che per Grosseto superano la cifra mostruosa di 8 milioni di euro, che sarebbero vitali per una risposta all'economia territoriale realmente efficace. Mentre con il via libera del Consiglio Comunale la città di Grosseto può ora contare anche su un piano di protezione civile, completo e modellato sulle caratteristiche del nostro territorio. L'aggiornamento riguarda, nello specifico, il quadro conoscitivo e le modifiche al sistema di allertamento relativo alle procedure di emergenza legate al piano di evacuazione cittadino. Tra le principali modifiche apportate cambia anche il criterio di valutazione dell'emergenza, che non sarà più basato sul livello dell'acqua al berrettino, ma adesso sarà basato su una valutazione specifica fatta dai tecnici del genio civile che effettuano il servizio di monitoraggio dell'andamento della piena sull'argine, pronte a individuarne eventuali rischi di rottura. Il nuovo piano verrà comunque accompagnato da un'adeguata comunicazione a noi cittadini. È infatti di fondamentale importanza per tutti noi conoscere le procedure per consentire, in caso di evento calamitoso, che le operazioni di soccorso siano il più rapide ed efficienti possibili. Questo mi sembra ovvio. Martedì abbiamo appreso che si svolgerà, martedì 16 marzo 2021, quindi martedì questo martedì, l'apertura delle aste pubbliche per gli oggetti rinvenuti e non rivendicati dai termini di legge per l'alineazione dei mezzi dell'autoparco comunale. L'appuntamento è alle ore 10 per quanto riguarda gli oggetti smarriti e alle ore 15 per quanto riguarda l'asta relativa ai mezzi dell'autoparco. L'apertura di entrambe le aste, in considerazione del Covid, si svolgerà in seduta pubblica con collegamento in streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune di Grosseto. Tutte le informazioni sulle modalità di apertura delle offerte presentate sono disponibili sull'albo operatorio online e sulla home page del Comune di Grosseto. Il sindaco poi prosegue nella sua attività di visita alle botteghe e ai commercianti grossetani, trovando realtà molto interessanti e innovative in molti ambiti, da quello agricolo all'export agroalimentare, all'artigianato e ai servizi alla persona. Mercoledì, nella mattinata di mercoledì, il nostro primo cittadino ha incontrato la neonata associazione Tartufai della Maremma Grossetana, che ha l'intento di salvaguardare e sviluppare il patrimonio tartufigeno di tutto il territorio grossetano, anche e soprattutto con il coinvolgimento delle amministrazioni locali. In questo e poi nei giorni successivi il sindaco ha visitato dei dotatori di Piazza Risorgimento, che è stata adottata dal centro commerciale Aurelia Antica, quello di Piazza Volturno adottata da Unicop Tirreno e quella di intersezione tra Via Nepal, Via India, Via Giordania adottata dalla Quattro Tempi Motostore. Tutto grazie al progetto Cuore Verde. Con Cuore Verde, lo ricordiamo, le attività commerciali del territorio si mettono in gioco per dare un sostegno concreto alle opere di manutenzione delle aree verdi di pregio in città, in particolare quelle presenti nelle corone delle numerose rotatorie della nostra rete viaria grossetana. Grazie all'incentivo privato sarà così possibile per l'amministrazione implementare significativi interventi di valorizzazione funzionale ed estetica per rendere le stade cittadine ancora più ordinate e accoglienti. Poi la Giunta Comunale ha deliberato il progetto Cimitero di Batignano, ampliamento per la costruzione di 60 loculi e 96 ossari. L'attuazione dell'iniziativa è emersa come necessaria a seguito delle numerose richieste provenienti dagli abitanti della frazione di Batignano. L'intervento sarà affidato a sistema SRL e il costo dell'operazione si aggira sui 176 mila euro. Naturalmente questo intervento è solo il primo di un lungo percorso che riguarderà molti cimiteri dell'area del comune di Grosseto. L'amministrazione infatti ha promosso un progetto di ampissimo respiro che porterà all'ampliamento e alla manutenzione degli spazi cimiteriali, garantendo e migliorando un servizio doveroso e fondamentale per la cittadinanza. Infine la Giunta Comunale ha anche approvato il progetto Riqualificazione ed Educazione Ambientale, aree sportive calcistiche, cui ha lavorato l'ufficio ambiente, al fine di contribuire alla riqualificazione delle aree adibite in piante calcistici presenti nelle frazioni del comune di Grosseto. Questo nell'ottica delle buone pratiche ambientali e della tutela dell'ambiente naturalmente. Il progetto vuole valorizzare e sostenere economicamente e tecnicamente l'impegno di tutte quelle realtà che intendono garantirsi la possibilità di raggiungere virtuoso traguardo attraverso l'economia circolare, di valorizzare quelle aree di interesse sociale. L'iniziativa è solo il primo passo del lungo percorso promosso dall'ufficio ambiente del comune di Grosseto, un percorso che è figlio di una progettualità di medio e lungo termine. La volontà infatti è quella di ampliare la riqualificazione anche a tutte le altre realtà sportive e non solo, fornendo un servizio virtuoso ai giovani anche fuori dal contesto scolastico. Sarà erogato per questo motivo a fondo perduto un finanziamento di 10.000 euro per incentivare le proposte progettuali di riqualificazione delle aree suddette. Il modello di domanda e il testo del bando saranno pubblicati sull'albo online del comune di Grosseto nei prossimi giorni. Mi raccomando, tenete d'occhio le pagine. Giovedì è stata annunciata la collaborazione con Disparte SRL per lo svolgimento delle riprese del film dal titolo Margini, del regista Niccolò Farsetti, che sarà interamente girato nel comune, nel territorio comunale di Grosseto, indicativamente dal 1 di aprile al 15 luglio 2021. Il comune di Grosseto collabora alla realizzazione delle riprese cinematografiche con la messa a disposizione delle vie e delle piazze pubbliche richieste, con la disponibilità da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile di garantire il servizio d'ordine, con la posizione dell'opportuna segnaletica e non solo. Le riprese inoltre dovranno essere effettuate nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid. Il sindaco ha annunciato anche un'altra importante novità. L'amministrazione comunale, sensibile alle istanze dei rappresentanti del comparto, ha infatti stabilito che gli stalli previsti per i taxi in città sono sette alla stazione, in piazza Marconi e tre in piazza del Duomo. Questo facendo seguito alle richieste arrivate dall'associazione di categoria, sono stati quindi aggiornati posizioni e numero delle aree destinate ai taxi. In questo modo è stata rideterminata una definizione formale degli stalli che garantisce un servizio, una turnazione adeguati alle esigenze degli utenti. Infine, in giornata sono arrivati i risultati riportati sulla statistica degli incidenti dell'anno 2020. Per la Polizia Municipale si è evidenziata una tempestività ottimale degli interventi compiuti dalle pattuglie. La statistica conteggia il lasso di tempo che intercore tra la segnalazione dell'incidente alla centrale operativa e l'arrivo sul luogo del sinistro. Bene, pensate che secondo la centrale operativa della Polizia Municipale, su 775 incidenti avvenuti l'anno scorso, il 29% degli interventi circa si è compiuto nei primi 5 minuti e quasi il 20% tra i 5 e 10 minuti successivi al sinistro. Quindi allargando la prospettiva di valutazione notiamo che il 65% degli interventi totali si realizzano nei primi 15 minuti dall'incidente stradale. Non possiamo che essere lieti di questo e congratularci con la nostra Polizia Municipale. Venerdì in mattinata il Sindaco ha firmato la convenzione con l'Auser per il progetto Piedibus. Piedibus fa parte degli investimenti sulla mobilità alternativa su cui sta molto puntando il Comune di Grosseto, utile anche in questa emergenza sanitaria. Al momento le scuole interessate sono l'Istituto Comprensivo Grosseto IV di Viale Luigi Enaudi e la Primaria Gianni Rodari di Viale Giotto. La Giunta Comunale ha poi deliberato il piano di gestione dei rifiuti, approvazione del progetto definitivo Quinto Stralcio Quater, completamento a capoluogo. Concernente l'introduzione dei sistemi di raccolta dotati di tecnologie per riconoscimento dell'utezza e la misurazione del peso e del volume del rifiuto conferito. Cosa comporta questa decisione? La decisione comporta il completamento per tutta la città di Grosseto delle isole ecologiche informatizzate, procedendo così alla sostituzione degli ultimi bidoni obsoleti ancora presenti. Quindi dalla prossima settimana saranno installate le postazioni informatizzate. Saranno dunque effettati degli incontri con i cittadini presso ogni singola postazione per conferire le tessere atte all'utilizzo dei cassonetti. Ovviamente l'invito per tutti noi cittadini è quello di recarsi presso le nuove postazioni a loro dedicate per ritirare, ove non ne fossero già muniti, la tessera in questione. Grazie all'installazione dei nuovi bidoni informatizzati, seppur solo nella città di Grosseto e ancora in fase di completamento, siamo arrivati al 52% della raccolta differenziata. Attraverso le nuove installazioni, sia quelle imminenti sia quelle che saranno realizzate nei prossimi mesi nelle frazioni e nel territorio aperto, si spera di poter giungere alla soglia del 70% della raccolta differenziata totale. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questo sabato, Sebastiano Venier vi saluta e vi dà l'appuntamento al nostro prossimo appuntamento con le nostre sindaco. Ciao a presto!